Il presidente Maiorino non paga i rimborsi, stoppa gli allenamenti, il futuro della nocerina è sempre più avvolto da nuvole dense e scure. Parlare di caos è riduttivo persino rispetto alle ultime vicende avvenute intorno al team dai colori rossoneri oramai sbiaditi. La squadra, come abbiamo anticipato sui nostri social e nel telegiornale, ieri non si è allenata e continuerà a non farlo fino a quando il presidente non farà chiarezza rispetto alla gestione e dalle mancanze nei confronti di ogni singolo componente del team. Una situazione a dir poco critica, paradossale per la formazione dell'agro che il primo febbraio compirà 112 anni di storia. I calciatori qualche giorno fa avrebbero dato l'outout all'avvocato e patron Maiorino ma le risposte attese non sono giunte. Maiorino, rimasto praticamente solo, non sembra assolutamente intenzionato a lasciare la mano nonostante pare ci sia ancora l'interesse da parte del gruppo imprenditoriale italo-americano capeggiato dal manager di Boston Giancarlo Natale. Torniamo ai fatti delle ultime ore. Ad Angri ieri la squadra avrebbe dovuto ritrovarsi per gli allenamenti senza la presenza del tecnico Cavallaro che da qualche giorno è bloccato a casa a causa del Covid-19. Il presidente aveva promesso che in questi giorni sarebbero stati effettuati pagamenti per i rimborsi a tutti i tesserati. Ed invece ai cancelli dello Stadio Novi, l'amara sorpresa, soldi non ce ne sono, neanche per comprare una bottiglietta d'acqua. Questo quanto sarebbe stato detto agli attoniti calciatori. Questi ultimi spiazzati dalle parole del presidente hanno alzato i tacchi e sono tornati a casa. Parliamo di ragazzi che vivono di calcio, di rimborsi risicati, molti di loro hanno famiglia e con il calcio mercato aperto è quasi scontato che proveranno a trovare nuove sistemazioni. Insomma da questo episodio emerge sempre più chiaramente che Paolo Maiorino è il presidente al bivio o darà delle risposte concrete sul futuro del club rosso-nero oppure il rischio è di sfasciare definitivamente il giocattolo. La nocirina mai come in questa occasione corre il serio pericolo di non poter proseguire la stagione. I calciatori, il tecnico, il DS Bolzan, a parte le considerazioni tecniche che possono essere positive o negative, si sentono lesi nell'orgoglio. Qualcuno dei tesserati si è lasciato andare anche ad un amaro sfogo. Non meritiamo quello che stiamo vivendo. Ci comportiamo da professionisti, diamo il massimo e vorremmo dare ancora di più. Invece per colpe non nostre ci dobbiamo anche prendere le contestazioni e le critiche del caloroso pubblico nocirino.